Ok ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, è ufficialmente uscito Hercules, il nostro primo programma dedicato al power building, quindi power lifting e body building, un mesociclo dedicato alla forza. In questo video ve ne parlerò e ve lo presenterò. Allora dunque, prima premessa, Hercules è un programma pensato per chi pratica body building, quindi per chi ha come scopo quello di un guadagno ipertrofico su lungo periodo. Quindi non è un programma di power lifting, anche se l'impronta che abbiamo dato si basa su progressione di power lifting. Ho già parlato della progressione sulla forza, quindi quando inserire un mesociclo è dedicato all'intensità di carico, quindi al miglioramento della forza nell'arco della nostra periodizzazione annuale. Quindi rimando a quel video per tutti gli approfondimenti. Comunque, immaginiamo di trovarci in questa situazione, ossia stiamo procedendo con un periodo in cui l'ottica è quella di ipertrofica, nella nostra programmazione annuale, e ci troviamo a voler o dover impostare un mesociclo dedicato alla forza. Ecco, in questo caso Hercules è sicuramente la scelta che fa per voi, perché tra l'altro è il programma più ampio, più copioso, più generoso, se vogliamo, che abbiamo fatto fino ad adesso. Allora, partiamo con la struttura. Generalmente Hercules si divide in due parti, una parte prettamente di power lifting, quindi progressione sui tre big di power lifting, e una parte più prettamente ipertrofica. La parte di power lifting si basa su, appunto, le progressioni su questi tre schemi motori, panca, stacco e squat, e adesso ci arriveremo e approfondiremo. Per quanto riguarda invece la parte body building, abbiamo dei workout accessori, dei workout addizionali. Ora, che differenza c'è? Nell'organizzazione della vostra split di allenamento dovete ovviamente partire dall'inserimento delle tre giornate, o comunque della parte dedicata al power lifting. Quindi ipotizziamo, mi alleno quattro volte a settimana, io so che il giorno uno, il giorno due, il giorno tre, oppure il giorno uno, il giorno tre, il giorno quattro, mi dedico a panca, rispettivamente, stacco e squat, squat, stacco e panca, insomma. Queste sono tutte valutazioni che il programma vi darà modo di fare, quindi vi spiegherà nel dettaglio come fare. Comunque ipotizziamo, giorno uno, giorno due, giorno tre, panca, stacco e squat. Ovviamente, se il mio scopo è quello di lavorare comunque sull'ipertrofia, il mio programma non si può esaurire soltanto sul lavoro, sulle tre alzate. Dobbiamo comunque tenere in considerazione e mantenere una parte di body building in cui non lavoriamo sullo schermo motorio, ma lavoriamo sul muscolo. E il workout addizionale e il accessorio servono a questo. Ora dunque, mentre il workout addizionale è un workout che noi aggiungiamo in un'altra giornata, quindi per esempio giorno uno, giorno due, giorno tre, rispettivamente panca, stacco e squat, e poi nel giorno quattro aggiungo il mio workout addizionale. Il workout accessorio invece è strutturato in modo da essere aggiunto a una giornata in cui già facciamo PL. Quindi, per esempio, il giorno uno imposterò la mia sessione di panca, quindi il workout PL di panca, e lo stesso giorno inserisco il workout accessorio di braccia, oppure di nuovo di petto, se è particolarmente carente, o di dorso, o insomma, queste sono valutazioni che di nuovo andremo a fare una volta che avremo il programma sott'occhio. Allo stesso modo, il giorno due, magari vado a progredire sullo stacco, e quindi c'è una mia parte di stacco, poi un workout accessorio, per esempio, sulle gambe, piuttosto che sulla schiena, il giorno tre vado a progredire sullo squat, e ci avrò un workout accessorio, per esempio, sulle spalle. Ora, ovviamente, capite bene che non è un programma per tutti, come tutti i nostri programmi, perché? Perché ci sono veramente tantissimi workout che avete a disposizione, e spetta poi a voi andare a impostare la vostra split. Quindi, logicamente, se sono carente sul petto, allora molto probabilmente, oltre al mio stimolo che vado a dare di panca fiana, voglio anche inserire un workout addizionale di petto, o perché no, sia un workout addizionale che un workout accessorio subito dopo la panca. Quindi, per esempio, vado a fare panca, quindi uno stimolo meccanico, poi successivamente vado a fare un workout accessorio sempre sul petto. Quindi continuo a lavorare il petto, però questa volta in ottica più ipertrofica. Poi, il quarto giorno di allenamento, ho di nuovo petto, un workout addizionale, quindi in ottica bodybuilding, ed ecco che il petto lo sto allenando in multifrequenza, quindi due volte all'interno della mia settimana. Perché? Perché lo ho carente. Questo è soltanto un esempio, però di nuovo, nel programma viene assolutamente spiegato nel dettaglio come impostare la vostra split. Ovviamente il bagaglio formativo è immenso, perché magari all'inizio tribolerete un pochetto, però capirete poi come gestire tutto quanto, come voi rispondete meglio a questi stimoli, come impostare tutto un equilibrio tra quello che fate come stimolo allenante e quella che è la vostra capacità di recupero. Insomma, avrete un'esperienza sicuramente unica. Ora, detto questo, una considerazione importante è che tutti questi workout di cui sto parlando, ovviamente workout accessorio e addizionale, ce ne sono uno per ogni distretto muscolare, così come per gli altri programmi, quindi avrò un workout accessorio per il petto, un workout addizionale per il petto, un workout accessorio per la schiena, un workout addizionale per la schiena e via discorrendo. Questo per la prima settimana, perché il programma dura 12 settimane, quindi per la seconda settimana avrò di nuovo una nuova parte di powerlifting, perché logicamente la mia progressione su panca, stacco e squat varierà di settimana in settimana, perché per l'appunto è una progressione, e avrò allo stesso tempo un nuovo workout accessorio per il petto, un nuovo workout accessorio per la schiena, un nuovo workout addizionale per le braccia e via discorrendo. Quindi di nuovo un nuovo workout sia accessorio che un nuovo workout addizionale per ogni singolo distretto muscolare. Quindi sostanzialmente il gioco è quello che dovete fare e avete fatto per gli altri nostri programmi di allenamento, ossia che alla fine di ogni settimana andate a tirare le ridine di scorso, vedete un po' come è andata e impostate la split per la settimana successiva. E voglio essere super chiaro su questo che il programma vi spiega nel dettaglio come fare, quindi non è un oddio c'ho tutta questa roba ma che cosa devo fare, no, il programma settimana dopo settimana vi spiega come impostare tutto quanto. E di nuovo per qualsiasi necessità, qualsiasi cosa, questa è una cosa su cui torneremo tra un attimo, avrete il gruppo privato a disposizione in cui noi per primi interveniamo, potete fare tutte le domande che vi vengono in mente e noi per primi vi diamo una mano per organizzare tutto quanto. Quindi non siete lasciati a voi stessi ma ci siamo come al solito noi sul gruppo privato in cui stiamo diventando sempre più numerosi, si sta creando un bellissimo ambiente, tanta coordinazione tra tutte le persone che utilizzano i programmi e sono super super entusiasti, di questo siamo tanto tanto felici. Ok, la cosa bella è che tutto quello che ho detto fino adesso è solo una parte di Hercules, come vi ho detto è un programma super super copioso e nello specifico è la parte base, quindi la parte per una persona che magari ha lavorato già su Pank, stacco e squat però non ha mai fatto una vera e propria progressione di PL perché abbiamo pensato che normalmente quando si dice ok dai in ambito bodybuilding facciamo un mesociclo di forza, boom, fai un 5x5 di panca, un 5x5 di stacco, un 5x5 di squat, ok apposta abbiamo fatto il mesociclo di forza, facciamo qualcos'altro. Ecco, in realtà è importante nel momento in cui lavoriamo in ottica bodybuilding, quindi su soggetti che fanno bodybuilding sia estrapolare un tipo di programmazione di forza che venga dal PL e quindi che segua logiche ben precise, ben determinate e ben organizzate sia però rendersi conto che stiamo parlando di persone, di bodybuilder quindi non di powerlifter quindi ovviamente tutto va contestualizzato al soggetto, ok? Quindi non abbiamo mai fatto un'esperienza di programma di powerlifting, non abbiamo carichi esagerati, ecco il nostro consiglio è di partire proprio da questa impostazione, da questa parte base di Hercules, però abbiamo anche pensato ci sono atleti da una parte che hanno già avuto esperienza nel PL, che vengono magari del PL, ci sono atleti magari che hanno già dei buoni carichi, buoni di mistichezza con questi big lift, quindi con le tre alzate e ci siamo anche detti, e ci sono atleti che magari finiscono le 12 settimane di Hercules, e poi che cosa fanno? Allora abbiamo pensato con Reda di impostare un secondo livello, un livello avanzato, ora la differenza principale con il livello avanzato è che la parte bodybuilding rimane sempre la stessa, questo per tutti i livelli, la parte PL cambia e nello specifico sono sempre 12 settimane di lavoro, però per ogni settimana il lavoro sui schemi motori è molto più tecnico, quindi ci sarà l'utilizzo di varianti come i pin pull, varianti come la panca piana con la tavoletta, varianti come squat con fermo in determinati tratti di ROM, ci saranno varianti a livello di tempo, quindi eccentrica lenta, concentrica lenta, fermi in basso, insomma iniziamo a lavorare in maniera molto più completa, e logicamente è un programma di nuovo che si adatta bene a persone che hanno già esperienza sui big lift, ossia faccio una panca buona, ottima, ok, iniziamo a lavorare sugli sticking point, iniziamo a lavorare su certi momenti specifici per migliorare ancora di più la tecnica, quindi logicamente la parte intermedia, per gli atleti intermedi, è una parte in cui si lavora in maniera molto più minuziosa, ok, e ci sarà un grande cambio di livello, ci sarà un grande miglioramento a livello neuromuscolare, e io ho lavorato con Reda, mi sono fatto seguire con Reda, da Reda per un periodo sulla parte PL, prima di decidere di fare questo programma insieme, e vi assicuro che il transfer che avete lavorando e tornando a lavorare in ottica bodybuilding è pazzesco, sia in termini di efficienza di scanotorio, di reclutamento di stretti muscolari, di propriocezione e logicamente anche di forza. Ed è una cosa che avete notato in molti commentando, tra l'altro, i video che sto postando e il mio rapporto tra carico e ripetizioni che riesco a esprimere. Ok, perfetto, quindi abbiamo una parte base, abbiamo una parte per l'intermedio che farà questo bel salto di qualità, Reda ha voluto fare un qualcosa in più, ha avuto un'idea veramente veramente geniale, ossia ha detto, porca vacca, un programma che si chiama Hercules e io seguo diversi campioni in ambito powerlifting, quindi fammi fare, fammi sfogare un pochetto, fammi fare una parte dedicata agli avanzati, quindi persone che hanno già dei massimali molto elevati, hanno un'ottima dimestichezza sulle alzate, ma soprattutto sanno gestire le diverse progressioni per le diverse alzate. E l'idea bellissima che ha avuto è, qual è la cosa che salta subito quando si pensa ad Hercules? Hercules, Hercules, 12 fatiche, 12 fatiche, fammi fare 12 programmi avanzati di 12 settimane ciascuno, quindi un programma per ogni fatica per gli avanzati e ciascun programma, quindi ciascuna fatica dura 12 settimane, quindi sono 12 per 12 soltanto la parte avanzata, quindi ci abbiamo messo un sacco in paginare a ricontrollare tutto quanto, è veramente una roba assurda. Ora, la caratteristica bellissima di questi programmi è che, essendo indirizzati a degli avanzati, non sono 12 settimane di panca, stacco e squat, ma sono 12 settimane di programma che può essere utilizzato sia per la panca, sia per lo stacco, sia per lo squat. Come decidere? Qua serve l'esperienza, nel senso che, anche se alcuni programmi si adattano meglio all'uno piuttosto che all'altra alzata, piuttosto che a panca, stacco, squat, eccetera, bisogna basarsi sulle nostre caratteristiche, nel senso che io, per esempio, Leone di Nemea, è uno dei programmi, una delle 12 fatiche, è un programma di 12 settimane che può essere utilizzato sia per panca, che per stacco, che per squat, secondo quelle che sono le mie caratteristiche, e le mie carenze, i miei punti deboli dell'alzata, allora potrebbe essere più intelligente inserirlo per la panca, piuttosto che per lo stacco, piuttosto che per lo squat. Proprio per questo è, logicamente, quest'ultima parte dedicata soltanto agli avanzati, perché, ovviamente, io, Ludovico, che non sono assolutamente avanzato per quanto riguarda il PL, non saprei come organizzarmi, non saprei come valutare tutto questo, però, se lo fossi, sicuramente avrei il materiale e l'esperienza per poter fare queste valutazioni, però, di nuovo, ci siamo noi sul gruppo, quindi, una volta che avete concluso la parte base, una volta che avete concluso la parte intermedi, potete cimentarvi nel concludere la parte avanzata e avete il nostro supporto sul gruppo, quindi il mio, di Reda, di Giorgio, eccetera, nel consigliarvi come muovervi. Quindi, capite bene che è un programma veramente, veramente immenso. Logicamente, ci tengo a dirlo, ma è abbastanza scontato, una volta che prendete il programma ci sono tutti e tre i livelli, nel senso che non sono tre programmi distinti che vanno acquistati in separata sede, cioè, nel senso, è tutto un po' pocchio che abbiamo messo in un file compresso che vi diamo e poi starà a voi a scombinare tutto quanto. Ogni programma avanzato, e questa è una cosa che ho super apprezzato di Reda, è spiegato, nel senso, è spiegato come è impostato, perché è impostato in questo modo, dove deriva, che ragionamenti ha fatto, eccetera, quindi ovviamente c'è questa bellissima esperienza formativa che, logicamente, è la base di quelli che sono tutti i nostri programmi. Quindi, detto questo, io concludo, vi lancio così questo Hercules, che è ufficialmente uscito, sarà un'offerta per quattro settimane, quindi lo trovate nel link qua sotto, qualsiasi domanda, qualsiasi dubbio, commentate, e detto questo, ragazzi, vi aspettiamo sul gruppo per commentare insieme questo nuovo programma. Quindi siamo super, super felici!